ciao a tutti ragazzi bentornati e bentrovati su questa nuova video recensione di matti vape sul canale matti vape per l'appunto di cosa andiamo a parlare oggi come avevo anticipato nel blog andiamo a parlare dello scanda che ho preso al vapitali ancora a maggio e c'è marco di negus che mi odia da morire perché mi aveva chiesto fai la recensione si la faccio la recensione il problema che ho avuto tutti i miei problemi mi sono preso le pause che avevo bisogno di prendere e con calma siamo arrivati io mi accomodo meglio ah che bello io mi accomodo meglio perché adesso dobbiamo andare un attimino a parlare di questo allora prima di parlare del tubo vorrei farvi capire che ci saranno dei piccoli cambiamenti anche all'interno delle recensioni dei video veri e propri cioè cos'è che cambierà tendenzialmente per lo meno non farò più la distinzione tra le frontali che si vedono continuamente e le macro quindi dove vedi principalmente solo le mani farò vedere qualche immagine per raccontare nello specifico i prodotti descriveremo molto bene quelle che sono le scatole e tutti gli accessori all'interno delle scatole ma per un'esigenza di cambiamento di format preferisco non esasperare con questi cambi e andare a uniformarmi un pochettino tutte le varie recensioni che ci sono già voglio provare a cambiare poi se la strada nuova non ci piace prenderemo la strada vecchia un'altra volta allora scanda io ho scelto la versione in ottone ma c'è anche in acciaio questa qua la versione nera con le intersecature grigie c'ha dei bei fori abbastanza grandi per lo sfiato della 21 700 che monta all'interno può montare 2721 e con le sleeve può montare anche le 18 650 la particolarità di questo tubo è il fatto che è da 27 mm di diametro esterni che si stringe fino a 24 e c'è anche l'adattatore all'interno da 25 ok cosa abbiamo di straordinario oltre a tutto ciò abbiamo il tasto perché è un tasto che è laterale e il seriale 001 come si capisce il 1 no è un'altra cosa vabbè lasciamo perdere ha un sistema all'interno che va a tenere la batteria sempre in battuta e premendo lateralmente funziona è molto sganswing è ottone quindi pesa ma io l'ho scelto dottore proprio perché mi piaceva l'idea che fosse tendenzialmente un oro in più ho dovuto pulirlo perché le mie mani come toccano il tubo subito lo ossidano c'è un sudore parecchio acido e quindi lo vanno ad ossidare immediatamente però il tubo come tocchi il tasto è molto reattivo queste qua sono le coil che vengono date in dotazione con il tubo secondo me la batteria anche leggermente scarica perché spinge poco per i miei gusti spinge poco un paio di cazzi però insomma ci siamo allora a me piace veramente tanto le rifiniture sono pressoché perfette non posso fare altro che complimentarmi con marco e mattia di negus per questo pezzo veramente straordinario in più ciò un rapporto stretto con questo tubo perché il mio primo tubo da quando ho iniziato youtube bene o male e ho iniziato a svapare tubi meccanici non ne ho avuti e di questa importanza perché può sembrare una stronzata ma seriale 001 non è proprio una scemata qualunque è molto 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 importante per me che loro abbiano deciso di darmi lo 001 sono stati carinissimi in fiera gli ho barattato le coccole a marco ma non è vero non mi nascondo nel dire che l'ho acquistato e lo recensisco perché mi fa piacere farlo è qualcosa di assurdo si tiene bene in mano è comodo perché con qualunque delle dita che tu lo tieni in mano ti viene comodo da appiggiare il bottone non può fare così 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 o anche con l'inghiano come si fa fa va bene spinge è conduttivo non ha io non ho riscontrato problemi per lo meno è anche molto sicuro perché gli sfiati sono sopra le filettature sono straordinarie tendenzialmente ho notato che se lo metti in tasca attivazioni fasulle non ne fa cioè per attivarlo devi proprio prendere fai delle piccole attivazioni si va ma per questo premendo se faccio così no altro ragazzi cioè io mi sento di fare i complimenti perché poi è un gusto molto soggettivo questo non si può dire che sia uguale per tutti mi sento di fare i complimenti a negoz perché ha fatto veramente un prodotto molto molto bello a me piace tanto si tiene bene in mano consiglio di prendere una pochettina un sacchettino un qualcosa dove attaccarlo alle guaine della cintura e metterlo dentro in maniera che è sempre protetto non viene tenuto in tasca non va a contatto per spigoli e quant'altro io ce ne ho uno che non l'ho qua l'ho a casa adesso ce ne ho uno che è di azad bellissimo ce lo tengo dentro quando esco con il tubo con le rare volte che ci riesco perché è troppo una cosa da collezione questa qui che non la voglio sputtanare portando portando mano in giro e mi piace cioè non posso farci nulla questo è proprio un tubo che mi piace e ci sta proprio bene 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 devo fare anche i complimenti è la prima volta che provano il coil di isaac si sa isaac è un builder tra i più rinomati in italia e non solo sono delle coil bassine perché sono delle 09 fanno una sua porca figura anche perché il vapore non rimane troppo caldo in bocca non va a stravolgere non schizzano è qualcosa di spettacolare sto utilizzando il lemon tea di dream mods che è un tè ghiacciato al limone all'interno sul glock 24 di no limits mod ragazzi devo dire la verità è proprio una gran figata mi piace mi piace veramente tanto i prezzi io non li so o perlomeno anche li sapessi non li direi perché non la ritengo una cosa giusta ed opportuna basta andare su vapers divinity negus modern son che è un gruppo che troviamo su facebook e li potete contattare o mattia o marco o ci sono tutte le info ma comunque lascio un infobox sotto il link del gruppo e della pagina anche facebook che cosa devo dire ragazzi a me piace veramente tanto il peso c'è ma il tasto è assolutamente il migliore che io ho mai provato la reattività è assurda le coil di isaac fatte apposta per lui sono fatta apposta per lui quindi non c'è molto da dire molto da aggiungere quando le cose funzionano bene le cose da dire sono poche perché c'è molto da nascondersi dietro un dito questo è un ottimo prodotto e soprattutto è un made in italy ragazzi comprate cose italiane spingete il più possibile il made in italy è vero i cinesi ci portano di tutto e di più non possiamo dire di no ma portate in alto made in italy liquidi hardware mod tutto quello che trovate cercate di spingerlo verso l'altro e di portarlo a un altro livello perché solo in questo modo il mondo dei vaping italiano può andare avanti anche la ricerca stessa può andare avanti le cinesiate sono importantissime non possiamo dire di no ma se possiamo spingere qualcosa di più sugli italiani facciamolo ragazzi fa ciao io non sono un tecnico che può dire se crea archi voltaici o quant'altro non me ne intendo un cazzo di quello io guardo sul tubo va bene o non va bene per me il tubo si merita un 10 pieno per il complesso estetica modalità di utilizzo tasto tutto quanto io mi ci trovo bene non si può dire che manchino i difetti è perché da tutto se vai a scarnare a cercare lo trovi un difetto l'unico piccolo difetto che io ho avuto nel mio è il fatto che il colore dalle incisioni di negus modenson del tasto e anche sotto se ne è andato via ma probabilmente è questione del sudore acido di cui parlavo prima questa però è l'unica cosa che posso dire la scatola è bellissima all'interno troviamo tutto quanto ragazzi cosa possiamo volere cosa possiamo volere di più detto ciò ho detto tutto detto tutto ho detto ciò adesso direi che vi ho allentato abbastanza l'anima e la rottura di palle quindi vi invito a mettere mi piace condividere il video iscrivervi al canale aggiungermi anche sui vostri instagram perché ci sono lì soprattutto faccio un monte di storie pubblico foto faccio di tutto e di più seguitemi anche su instagram tv perché c'è pure instagram tv che piano piano dovrei cercare di usarlo un pochettino di più perché è tv e quindi di più ok che dire ragazzi abbiamo detto tutto e basta ciao 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 ciao